Buon compleanno in paradiso. Si chiama così lo spettacolo di beneficenza in programma il prossimo 25 novembre alle 20.30 al Teatro Totò di Napoli, dedicato a Ciro Esposito, il tifoso partenopeo che ha perso la vita a seguito degli scontri fuori allo Stadio Olimpico di Roma lo scorso 3 maggio. Un evento promosso e organizzato da Rife al Sicurezza di Nicola Rinaldi che ha fortemente voluto la serata insieme all'associazione Ciro Vive fondata dai genitori di Ciro, Antonella e Giovanni Esposito. Il 3 maggio scorso Ciro era andato nella capitale per seguire la sfida di Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina e il 23 novembre di quest'anno avrebbe compiuto 30 anni. Una data molto triste per i genitori di Ciro come ha sottolineato Antonella Leardi ai nostri microfoni. Il 23 novembre sarebbe stato il compleanno di Ciro, mi è stata richiesta questa fiaccolata che io ho accettato con grande gioia, una fiaccolata che partirà alle 7.30 dall'autolavaggio dove Ciro lavorava. Faremo un giro nel rione ed arriverà a Piazza degli Eventi soprannominata Piazza Ciro Esposito. E questo per ricordare ancora una volta l'atto eroico che ha fatto mio figlio e affinché quello che è successo a Ciro non succeda più ma soprattutto che non si spengano i riflettori su questa faccenda che è successa. Poi ci sarà una festa, uno spettacolo in cui tantissimi ospiti ricorderanno la figura di suo figlio. Allora, questo spettacolo chiamiamolo festa tra virgolette perché per noi in questi giorni è altro che festa. Purtroppo ricordare che avremmo voluto festeggiare il compleanno insieme a nostro figlio, lui insieme agli amici come faceva ogni anno. Veramente i compleanni noi festeggiavamo due giorni, un giorno in casa e un giorno con gli amici faceva Ciro. Quindi per noi è un momento di dolore, è un momento molto tragico. Però questa festa tra virgolette perché noi abbiamo detto che Ciro vive. Ciro vive.